Exoraptics, eccoci qui oggi con questa bellissima Renault Clio, 75 cavalli 1.5 di cilindrata, la troviamo oggi nell'allestimento Moschino. Il colore è questo bellissimo blu elettrico, nella parte centrale del nostro muso troviamo il logo Renault che spicca cromato e tutta quanta la fanaleria. Nella parte laterale troviamo questi bellissimi cerchi in lega del raggio di 16 e troviamo anche questa targhettina che ci ricorda un po' il nostro allestimento come le calottine e la parte sottostante della nostra fiancata laterale. Parlando di dimensioni, l'auto è lunga 4,6 cm, larga 1,73 cm e alta 1,43 m. Passando al bagagliaio troviamo una capienza di 301 litri che possono diventare 1069 andando ad abbattere le sedute posteriori che sono frazionabili 2 terzi e 1 terzo. L'auto ovviamente ha 5 posti e 5 porte, troviamo nella parte posteriore dell'abitacolo questi bellissimi sedili in pelle misto tessuto bicolor con questa stampa quadrettata grigio chiaro e grigio scuro quasi tendente al nero, ovviamente attacchi Isofix e cristalli elettrici. Nella parte anteriore troviamo questo bellissimo volante in pelle a tre razze con ovviamente il logo moschino nella parte sottostante. Nella parte di sinistra troviamo la regolazione del nostro cruise control mentre sulla destra troviamo i tastini per quanto riguarda i comandi vocali. Nella parte centrale troviamo il nostro display con tutto quanto l'infotainment ovviamente il tastino per poterlo spegnere e la regolazione del volume sottostante troviamo la regolazione invece del clima per quanto riguarda il cambio è un cambio manuale così come il freno di stazionamento ovviamente non l'ho detto ma sono 5 marce e da parte del guidatore troviamo questo bellissimo vano porto oggetti a pozzetto. Questa è un'alimentazione diesel immatricolata nel 2019 trovi queste e tantissime altre Renault Clio sul nostro sito ratix.com è che so?